Una delle cose a cui stiamo assistendo in questa crisi nata dalla guerra in Ucraina, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è anche un nuovo ruolo che stanno avendo i media digitali all'interno di questo conflitto. Un ruolo fondamentalmente legato alla politica internazionale, ma soprattutto alla capacità che hanno questi strumenti di far diffondere messaggi e informazioni. In questo senso la Russia sta elaborando una strategia che si chiama di cyberbalkanizzazione, ovvero sta cercando di isolarsi, di staccarsi dal sistema globale delle piattaforme digitali e di internet, cercando di creare un sistema chiuso, un po' come ha fatto la Cina con il cosiddetto la grande muraglia digitale cinese, in modo tale che le informazioni possono essere controllate e che circolano in maniera controllata all'interno delle piattaforme russe, che quasi tutte, o meglio tutte, sono sotto il controllo del governo del Kremlino. è notizia di qualche giorno fa che l'agenzia TASS, che è un'agenzia di stampa ufficiale russa, ha affermato che in Russia si sta per lanciare un social network che dovrebbe sostituire Instagram, che si chiama Rosgram. Perché dovrebbe sostituire Instagram? Perché Instagram fondamentalmente è stato bannato in Russia, quindi non è più accessibile da parte degli utenti russi, questo perché fondamentalmente la Russia ha reagito in questo modo ad alcune politiche di ostilità mediatica che queste grandi piattaforme digitali hanno avuto nei confronti della Russia e soprattutto della crisi ucraina. In questa situazione fondamentalmente la TASS ha dichiarato che fra poco verrà lanciato questo social network che è un clone praticamente di Instagram. Di questo Rosgram si sa veramente molto molto poco. Esiste un sito ovviamente che ha annunciato il suo lancio che è rosgram.ru, per chi non lo sa se il .ru è l'estensione, è il top level domain geografico per quanto riguarda i siti internet russi e al momento diciamo così verrà aperto in versione beta solo per un ristretto numero di finanziatori e influencer alla fine di marzo, mentre la sua versione aperta e pubblica a tutti dovrebbe essere disponibile già dalla fine di aprile. Una cosa diciamo così, altre informazioni sono trapelate dal profilo Vcontacte del responsabile delle pubbliche relazioni di Rosgram, nonché co-founder che si chiama Alexander Zuboff. Zuboff ha dichiarato che Rosgram avrà le stesse caratteristiche di Instagram, bisogna dire la verità, dallo screenshot che ha postato proprio nel suo profilo Vcontacte sembrerebbe molto 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 simile, per non dire un clone di Instagram e soprattutto avrà delle strategie di monetizzazione diverse in modo tale che gli influencer russi possano switchare dal loro profilo Instagram a Rosgram, anzi sembrerebbe che sia previsto che i propri contenuti prodotti su Instagram possono essere tranquillamente importati all'interno di Rosgram. Questa è una strategia diciamo così di, chiamiamola di isolazionismo digitale, che la Russia ormai sta praticando da qualche tempo, infatti tanto per dirne una, proprio lo scorso settembre, sempre la TAS, aveva annunciato che Gazprom Media avrebbe lanciato, come poi ha fatto in effetti, scusate il gioco di parole, un clone di TikTok che si chiama Iappi e che sembrerebbe che stia avendo un certo successo. Come si vede queste manovre fanno capire che le piattaforme digitali e il livello digitale non è solamente più un problema di comunicazione, ma sta diventando un problema di politica internazionale e di ecosistemi economici digitali. Quindi queste manovre è bene tenerle sotto controllo perché sicuramente avranno delle conseguenze sul lungo periodo.